Qui Diego Dabber21, salve a tutti, in questo nuovo video interpreto il mitico e scleratissimo professore di Flash dal film Disney Pixar del 2004 Gli Incredibili, una normale famiglia di supereroi Di questo video scansono i privoci, no copywriting infringement intendi, possiedo solamente la voce giusto per essere chiari, siamo chiari, vero, molto bene Se il video vi piace iscrivetevi al canale, non perdetevi ai miei ultimi tipi dati del piaggio C'è bisogno di tutti i fondi del piaggio identico Dabber21, Dabber21 di Mimoto, buone bisogno a tutti Spero che qui in piazza si fai incominciare, qui, per chi lo volesse vedere C'è il mio indirizzo Instagram, lo vedete? Molto bene Andiamo Di che cosa si tratta? Flash ha fatto qualcosa di male? Ah è un cattivo esempio per tutti, e si pula apertamente di me in fronte alla classe Lo so che sei stato tu, mi mette le punte dita di segno sulla sedia Lo ha visto lei? Eh io? No però, no, veramente no Oh, e come sa che è stato lui? Ho filmato tutto, e stavolta l'ho beccato Ah, visto? Avete visto? Non avete visto? Si è mosso, ecco qui Aspettate, aspettate Ecco, visto? Propriamente sto per sedermi Io non lo so, non lo so come faccia Ma la puntina non c'è prima che lui si muova E dopo che si è mosso la puntina c'è Coincidenza? Io credo di no Ma quale Bernie è Bernie? Questo piccolo delinquente è colpevole Signora Park, lei e suo figlio potete andare Mi dispiace per il disturbo Lo lascio andare di nuovo È colpevole, glielo si legge su quella faccetta compiaciuta Colpevole le dico, colpevole, colpevole No Questo è questo È il maestro scregatissimo Invece Nel fin di Disney Picksalire del 2004 Incredibili Spero che il primo vi sia piaciuto Un ciclo che c'è altro di parte Da un bel ventuno Da Mr. Ward E ci vediamo presto Ah ragazzi è sempre bello parlare della nascita di una meme Perché come vedete Questa scena Di meme Ce ne sono Su questa scena Di meme Ne ruolano su internet Che è una bellezza proprio Però se c'è una meme Che proprio io adoro Alla follia Quella meme è Provate a indovinare Se avete detto La meme di Disonore Disonore C'è tutta la tua famiglia Di Mushu Avete indovinato Più che altro Per la pluralità di contesti Nelle quali si possono applicare Eh già Dunque Non ho nient'altro da dire Perciò A presto A presto A presto grazie a tutti